Gildarella che ci prepari di buono oggi? Allora amori miei oggi preparo un dolcetto senza glutine, va bene? E vai! E allora qui tre uova, vedete? 150 grammi di zucchero, adesso metto un po' di latte, un po' alla volta ho messo il latte. Adesso metto l'olio, allora il latte era 150 ml e l'olio 150 ml, va bene? Limone grattugiato, che questo deve stare dappertutto, non trattato. Che profumo, tra il limone, nell'impasto qua che voti che fa? Ecco qua, adesso metto la farina, un po' alla volta. Ecco qua, allora, questa è la farina e ne ho messa 400 grammi, eccola qua, vedete? Senza glutine. Questa è quella senza glutine, ecco qua. Questo è un dolcetto senza glutine, squisito, al bacio. Buono. Vai, vai, tutta sprint e girdarella. Allora, vanillina, eccola qua, e lievito. Una bustina? No, lievito. Di vanillina? Sì. E metto mezza bustina, un po' più di mezza di lievito. Sempre senza glutine, eh? Allora, una bustina di vanillina e un po' più di mezza bustina di lievito. Brava. Perfetto. Sì, guardate che impasto, mamma mia. Ecco. Lo zabbaglione, detto bene prima, girtarella. Eccoci. Allora, qui ho messo la carta forno e i lati l'ho imburrata e infarinata, eh. Vedete? Ecco qua. Vai. E adesso? Super momento, eh. Eccolo qua. Ma andiamo giù sta creminati, eh. Ecco fatto. Ecco qua. Vedete? Vediamo che si, girtaretti, eh. Ci stanno a scillocchi di fuori. Ehi. E adesso? Ecco qua. Un po' di mandorline, vedete? Queste qua. Granella di mandorla. A granella. Che queste muovono tutte giù. Questa viene una splendida tortina. E qua. Mettiamo. Sempre. Mettiamo un po' di zucchero di canna. Ecco qua. Vedete? Ecco fatto. E poi, queste, è inutile che me ne tengo. Vabbè, queste tanto poi con granelle e scaglia di mandorle ve regolate voi, eh. Sì, beh, certo. Mettete qualche manciatina dell'una e dell'altra. Allora. Manciatina di zucchero di canna. Io adesso lo vado a infornare. Questo è il tuo dolce senza glutine. Va bene? Adesso lo vado a infornare a 180. Poi abbasso un pochettino. E considerate tre quarti d'ora, 50 minuti. Insomma, ce vanno, eh? Va bene. Vai. Prontissima. Guardate che spettacolo. Che meraviglia. Bella. Ma le vamo, eh, da qua. Se leva, sì. Ah, vai. Eccola. Guardate quanto è bella. Maria Grazia, te piace? Poi falla così ce lo fai sapere, eh. Eccola qua, Maria Grazia. Posso questo, eh. Guarda che bella. Mamma mia, che spettacolo, girtare che hai fatto. Noi ci mettiamo un po' di zucchero. Ecco, se non levo il capo. Eh, ma infatti, che metti, girtare, te possino. Vai, ti è, guarda che bella che è. Ecco qua. E ora ve la faccio vedere. Ah, fammi il taglio. Vedete, eh, com'è bella. Taglio. Morbida e buonissima. Guardate. Guardate che bella. Eccola, guardate quanto è bella. Che profumo. Meraviglia. Lo spettacolo. È morbidissima. Guardatela qua. Non sembra neanche con la farina. No, fa senza glutine. Eccola, guarda che bella che è. Le faccio spesso, eh, senza glutine. Crostate, pizze. E vengono buone. Allora. Speriamo che Maria Grazia è soddisfatta. Maria Grazia, io spero che ti piace, che sei soddisfatta. Un altro po' di... Ah, io e girtare, ma allora sei te però, eh. E sei, io e girtare. Eccola, io mi piace, mi piace. Voilà. Vai. Allora. Adesso. No, ma arriviamo tutti. Siamo giunti al momento dei salutini. Guardate che bella. Eccola, uno spettacolo, vai. Guardate, morbida, morbida. Eccola, vedete? Morbida, morbida. Deliziosa, deliziosa. Vai, Gildare, ciappa. Allora, cominciamo. Allora, Antonella da Mantua. Eh, ciao Antonella. Bacio. Michela Antonio, in prota da Napoli. Ciao Michela. Ciao Michela Antonio. Ciao ciao. Poi, Barbara di Ciccio da Roma. Barbara, Barbara di Cicco. Ah, di Cicco. Ma vabbè, scusa. Scusa, Barbara. Lo vi dico, Barbara di Cicco da Roma. Bacetto. Barbara ce l'ho anche io che mi segue. Allora, Eva Caravillani da Roma. Ciao Eva. E va, bacio grande, Eva. Jessica Manchi. Sì. Gira. Dalla provincia di Torino. Ciao. Sì, sì, perfetto. Manchi. Manchi. Jessica Manchi. Jessica, un bacione. Perdonateci per gli errori. Anna Maria Pisciotta da Matera. Ciao Anna Maria. Bacio. Allora, De Carolis e Paolo in arte Mastrogeppetto di Fabbrica di Roma Viterbo. Ciao. Ciao. Bacio. Bacio. Maria Spadafora da Mister Bianco Catania. Ciao. Ciao. Bacio Maria. Un bacione. Un bacio a tutti. Allora, un bacione grande a tutti. Mi raccomando, fatela. E niente, mandiamo il solito abbraccio. Sempre un abbraccio grande. All'Emilia Romagna. A tutti. A tutti. Va bene. Allora, tanti baci belli. Sempre dal cuore. E dalla cucina di? Gilda. Gilda. Ecco qua, mi raccomando. Guardate che bella. Per chi è ciliaco. Si è. Guarda che spettacolo. Se la fa, guardate, è morbida, morbida, eh. Vedete? Una delizia. Guardate che bella. Una meraviglia. Ecco qua. E mi raccomando, fatela così poi ci dite se vi è piaciuta. Baci grandi a tutti. Ciao, ciao. Ciao, amori. Ciao. Ciao. Ciao.